Domenica infernale ad Ostia. Ieri un ciclista di 62 anni è morto sul lungomare Caio Duilio all'altezza dello stabilimento Mami. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che l'uomo sia stato stretto da una macchina in transito e abbia sbattuto la testa contro un'auto parcheggiata. Inevitabilmente il traffico è andato in tilt con lunghe code di bagnanti di ritorno dal mare. Veicoli in fila anche sulla litoranea con bus e ambulanze bloccate e automobilisti costretti a scendere dalle vetture per una gestione della circolazione fai-da-te. Quello che è successo è solo un primo assaggio di un disastro annunciato con il programma di pedonalizzazione del lungomare, ha dichiarato il consigliere capitolino Davide Bordoni. Il litorale va tutelato con il potenziamento dei mezzi pubblici, gli investimenti sulla Roma Lido e un controllo serrato del territorio, ha concluso. L'amministrazione 5 Stelle è rimasta sorda alle solicitazioni dell'opposizione affinché l'estate venisse affrontata con un piano preciso e razionale, ha aggiunto il capogruppo della Lega del Decimo Municipio, Monica Picca. Intanto i sindacati della polizia locale tornano a lamentare la carenza di personale e preannunciano battaglia per tutelare l'incolumità dei vigili.